Allora, l'attrezzatore è pronto. C'è la buona volontà, come sempre. Oh raga, se avete questo video vuol dire che siamo salvi, se no se trovate questa macchina fotografica sapete il perché. Allora, l'attrezzatore è pronto. Allora, l'attrezzatore è pronto. L'attrezzatore è pronto. L'attrezzatore è pronto. L'attrezzatore è pronto. L'attrezzatore è pronto.